ehi la ciurma io sono mezzatessa e ben ritrovati in un video di mountain blade 2 banner lord questo video sarà molto molto rapido ma metterò dentro 7 tips and tricks cose che non sapevate magari di mountain blade 2 banner lord perché le trovate molto utili e scoperto piovanti nel gioco perché non sono così chiare allora siamo qui in una battaglia perché come prima cosa voglio mostrarvi delle cose che si possono fare dentro le battaglie che magari non sono chiare a tutti magari qualcosa di queste cose che racconterò vi è già noto magari le sapete già tutte però insomma spero di dirvi qualcosa che non conoscete già per esempio premendo g possiamo droppare l'arma che abbiamo in quel momento equipaggiata mentre invece se teniamo premuto g si apre questo bellissimo menu per cui possiamo scegliere di droppare una delle altre armi ok per cui per esempio io ho droppato l'arco lasciandolo la adesso facciamo annulla su cancel dove è andato adesso l'ho perso da qualche parte sì mi sa non lo evidenzia neanche ah no ecco le frecce ok infatti adesso è tutto a posto seconda cosa allora saliamo sul nostro fedele equino allora come voi saprete probabilmente guardando in giù possiamo premere f per scendere ragazzi per piacere un po più di silenzio e salire appunto con la f mentre invece se noi per caso non stessimo guardando possiamo premere z e scende automaticamente senza doverlo guardare questo mi pare che venga detto anche nel tutorial ma spesso uno solo perde seconda cosa per accelerare rapidamente si può utilizzare w premuta due volte di seguito e per frenare doppia due volte s spostarsi possiamo spostarci con il nostro cavallo lateralmente premendo e più di oppure e più a restando appunto paralleli senza andare avanti perché altrimenti sapete che premere semplicemente e o di lo fanno girare tenendo premuta la e possiamo farlo traslare di lato non è utilissimo sempre però è una cosa carina da sapere e siamo al tips numero 4 premendo due volte spazio il cavallo si impennerà questo ovviamente se siamo fermi può essere un modo carino per festeggiare con la nostra banda di indisciplinati che stanno facendo rumore visto che di base senza aggiungere modo non si può festeggiare con loro passiamo al quarto no quinto già fate tutti e cinque allora usciamo un attimo da questa battaglia che abbiamo vinto abbondantemente abbiamo detto di G abbiamo detto di WS E più A E più D doppio spazio Z per scendere allora prendiamo un prigioniero allegramente dateci tutto nella mappa quando siamo nella mappa possiamo premere N per aprire l'enciclopedia da cui possiamo avere più informazioni sugli accampamenti e appunto andare anche a mettere il nostro track sopra uno di essi oppure anche saperne di più degli eroi che sono sia le persone che abbiamo incontrato come companion sia i lord e via dicendo quindi questo è molto facile anche da scoprire per da utilizzare per trovare per esempio moglie female noble e qua potete scegliere vediamo ci interessa mannan vediamo un attimo family siamo fortunati non ha un marito nella famiglia né dei figli quindi potremo andare a chiedere la sua mano mentre invece se andassimo su Arwa anche lei è single quindi ci sta sembra anche molto carina guardate il bel faccino che ha e questo era il tips numero andiamo qua però avendo che è più vicino però la prossima cosa era il tips numero 6 allora per l'ultimo tip lo so che è singolare tip ma io dico tips perché fa più ridere con l'S l'ultimo ci serve andare dentro la forgia allora abbiamo fatto un tutorial sulla forgia ma è stato fuori che forse non ho sottolineato una cosa che quindi aggiungo in questa qua voi qui avete il vostro faccione su cui potete sapere la stamina e quanto è la vostra abilità ma qua potete anche mettere i vostri companion per cui se voi avete finito la stamina ma il vostro tizio seguato qua è molto bravo di smiting come vedete a 41 lui ha 45 di stamina potete fargli continuare la roba lo mettete e lo spostate a refine per esempio io in questo salvataggio qua ho messo lui che ha come abilità gli ho sbloccato che un charcoal e un crowd iron mi vanno un root iron mentre invece io no che non era quella poi l'abilità era un'altra diversa cosa che era? no forse non l'ho ancora sbloccato scherzavo ah no questa qua forse 1 e 1 ci da 3 si 1 e 1 ci da 3 mentre a me 1 e 1 mi da 2 e ho sbloccato invece su questo e quest'altra per cui faccio il charcoal con me stesso poi dopo quando devo fare invece il crowd iron passo a lui eh? e appunto volendo poi se uno non vuole aumentare la smiting skill può anche far fare a tutti gli altri il lavoro sporco e poi con il proprio personaggio che ha l'abilità alta va a forgiare le meglio armi di tutta Calradia detto questo spero di avervi appunto insegnato qualcosa che non sapevate ancora di Mountain Blade 2 Bannerlord ci vediamo spero presto per un altro tutorial di Mountain Blade io vi invito a lasciare un mi piace se per caso il video vi fosse servito vi fosse piaciuto un commento qua sotto e iscrivervi se foste interessati ad altri video del genere ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti